Ultimamente, per provare a risolvere il problema dell'eccesso di debito dello Stato italiano, è stato proposto il cosiddetto prelievo forzoso dai conti correnti. In realtà non è un'ipotesi particolarmente probabile, tanto che pare che nessun partito abbia accolto questa proposta, però ricordatevi che se decidessero di farlo, lo farebbero probabilmente senza far sapere niente, all'oscuro di tutto, durante magari che ne so una notte, in modo che nessuno possa opporsi. Infatti, in Italia, un prelievo forzoso direttamente dai conti correnti c'è già stato in passato nel 1992, quando ancora c'erano le lire, e quindi non è assolutamente impossibile immaginare che possa ripetersi. Allora fu del 6 per 1000 e, per l'appunto, una notte, senza dire niente a nessuno, il governo Amato prelevò da tutti i conti correnti degli italiani il 6 per 1000 e la mattina, semplicemente, gli italiani si alzarono con un conto corrente del 6 per 1000 in meno. Ripeto, al giorno d'oggi non sembra in realtà che ci sia questo rischio, però la cosa in teoria è possibile e qualcuno di esterno alla politica lo ha già anche proposto, quindi possiamo affermare che perlomeno qualcuno ci sta pensando. Ora, dovete sapere che Bitcoin è molto più simile ai contanti che non ai conti correnti, nonostante sia completamente digitale. Ebbene, nel 1992, quando ci fu il prelievo forzoso, questo venne fatto sui conti correnti, non sui contanti, cioè chiunque detenesse allora dei contanti a casa non subì il prelievo forzoso del 6 per 1000. Questo fu a carico solamente dei correntisti, cioè di chi aveva un conto corrente. Ebbene, Bitcoin può aiutare a proteggersi da questo tipo di azioni nello stesso modo in cui possono aiutare i contanti. Perché? Perché se si detengono Bitcoin su un wallet di proprietà, gli unici ad avere accesso a quel wallet di proprietà sono coloro che detengono o il SID o le chiavi private. Quindi se voi avete il possesso esclusivo del SID o delle chiavi private, quindi non l'avete mai dato a nessuno, nessuno, nemmeno nella più remota ipotesi, può entrare sul vostro wallet e sottrarvi Bitcoin. Certo, se però quel SID oppure quelle chiavi private vi sono state ad esempio rubate da un hacker, ecco che l'hacker diventa in grado di sottrarvi i Bitcoin. Quindi se voi conservate Bitcoin su un wallet di proprietà e conservate bene, in modo corretto, in modo sicuro, gli accessi, cioè in poche parole il SID e le chiavi private, nessuno ve li può portare via. Nemmeno lo Stato, nemmeno le forze dell'ordine, nemmeno la magistratura, assolutamente nessuno. Un discorso invece un po' più complesso vale nel caso in cui voi decidiate di tenere i Bitcoin non su un vostro wallet di proprietà, di cui voi avete in via esclusiva il SID o le chiavi private, ma ad esempio su un wallet di terze parti, come quello degli exchange. Solitamente negli exchange il SID o la chiave privata del wallet ce l'ha l'exchange e quindi in teoria, sebbene solo in teoria, lo Stato potrebbe rivolgersi a loro per fare questo prelievo forzoso. A dire il vero, se lo Stato italiano dovesse mai decidere di fare un prelievo forzoso, molto probabilmente non gli interesserebbero Bitcoin, gli interesserebbero solo gli Euro e quindi probabilmente anche detenendo Bitcoin all'interno di wallet di terze parti, come quelli degli exchange, forse si sarebbe lo stesso al riparo dal prelievo forzoso. Però questa seconda ipotesi io non ve la posso confermare al 100%, mentre invece vi posso confermare al 100% la prima ipotesi, ovvero che se solo voi avete il SID o le chiavi private degli indirizzi pubblici su cui state conservando i vostri Bitcoin, non c'è verso che nessuno ve li possa portare via. Quindi detenere Bitcoin su un wallet di proprietà a cui si ha accesso esclusivo mette completamente al riparo da ogni tentativo di prelievo forzoso. Ma fate attenzione. Non solo potreste avere dei problemi nel caso in cui non foste in grado di conservare correttamente il SID o le chiavi private, perché se ve li rubano vi possono rubare anche i Bitcoin, ma Bitcoin ha un valore volatile, l'Euro invece ha un valore molto più stabile. Quindi se voi avete dei risparmi in Euro e li convertite in Bitcoin, vi assumete un rischio. Il rischio che quei Bitcoin che avete, diciamo, comparato pagando Euro, cioè dando via Euro per incassare Bitcoin, nel corso del tempo possano variare di valore. Certo, possono anche crescere, però possono anche decrescere. Quindi convertire una parte di risparmi da Euro a Bitcoin comporta comunque un rischio finanziario non indifferente. Inoltre detenere dei Bitcoin su un wallet di proprietà vi mette al riparo dal prelievo forzoso, ma non vi mette al riparo da un'eventuale tassa patrimoniale, cioè una tassa sul patrimonio. Perché i Bitcoin sono patrimonio, è complesso il modo con cui li si dichiara come tale. Io ad esempio non so darvi risposte su questo perché non sono un commercialista, non sono un esperto di fiscalità, quindi il modo con cui va dichiarato il possesso di Bitcoin io di preciso non lo conosco, è meglio che vi facciate aiutare da un commercialista esperto, però in tal caso ovviamente nel momento in cui dichiarate il possesso di Bitcoin, ecco che potrebbero essere tassati volendo dallo Stato, sempre che lo Stato decida di farlo, perché fanno parte del patrimonio. Tra parentesi, così come allo Stato non interesserebbe probabilmente fare un prelievo forzoso su Bitcoin, credo che non interesserebbe nemmeno emettere una tassa patrimoniale sui Bitcoin. Comunque queste sono cose che in realtà sono possibili, magari poco probabili, però comunque possibili. Quindi il quadro, come avete capito, è abbastanza complesso, per nulla banale, però c'è un punto chiaro, semplice, ovvero se voi possedete dei Bitcoin all'interno di un wallet di cui possedete in maniera esclusiva, cioè ce l'avete solo voi, il SID o le chiavi private, nessuno può portarveli via, nemmeno dei ladri, nemmeno degli hacker, nemmeno lo Stato o le forze dell'ordine. L'importante è che conserviate in estrema sicurezza il SID e le chiavi private. Per esempio molti, per conservarli in sicurezza, li scrivono su carta, li tengono solo su carta e li mettono in cassaforte, mettono il documento in cassaforte in modo che sia al riparo da tutti. Poi, se doveste avere ancora dei dubbi, delle domande, ricordatevi che potete sempre scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Ricordatevi però che io non sono un esperto di contabilità o di fiscalismo, quindi non chiedetemi informazioni di questo tipo perché vanno chieste ad un commercialista esperto, dato che oltretutto in Italia c'è un po' di confusione su questi argomenti. Un saluto, ciao!